Dopo decenni di snervante attesa, l'elettrificazione della linea ferroviaria Campo Sampiro-Cittadella-Bassano sarà presto realtà. La nona Commissione Trasporti della Camera ha approvato infatti gli investimenti del contratto di programma della rete ferroviaria italiana e per il Veneto il piano prevede l'elettrificazione di questi 30 chilometri che interesseranno anche le stazioni intermedie di Fratte di Santa Giustina in Colle, Villa del Conte, Cittadella, Rossano e Rosà. Si parla di un investimento milionario già stanziato all'interno del bilancio preventivo 2016. Ogni chilometro di binario da elettrificare infatti costa 400.000 euro. Il calcolo pertanto è semplice. Per la sola elettrificazione della linea serviranno all'incirca 12 milioni di euro a cui sarà necessario aggiungere un altro milione per realizzare una sottostazione a Cittadella e potenziare la stazione di Bassano. I vantaggi dell'operazione per l'utenza saranno evidenti. Secondo le stime la percorrenza non sarà più di un'ora e quattro minuti come quella attuale ma di 50 minuti con un risparmio significativo di un quarto d'ora ogni viaggio.